I programmi sono decisivi per tenere insieme le coalizioni, in questo momento guardate Draghi. Draghi è l'esempio, io nella costruzione di questa coalizione mi sono ispirato a Mario Draghi che in una situazione di difficoltà ha cercato di tenere insieme tutti. Io da domani guarderò i programmi elettorali anche degli altri candidati e se ci saranno, come sono sicuro, degli elementi interessanti li farò assolutamente di questa coalizione. Grazie.